fa freddo picciotti, fa freddo, i miei biscotti non ne sono, ecco qua, i miei tocchiglioni, no, allora i tocchiglioni, reginetta, buongiorno ragazzi, ora prendiamo un biscottino e ce lo truppiamo nel lattino, che finito ragazza, chi farà i biscotti, ma benedica mangiate, me la prendi un cucchiaio, per favore, grazie, molto gentile, dov'è, dov'è, ce la prendi il cucchiaio per me, grazie, grazie Francesco, sono indecido, buongiorno e buon giovedì a tutti, come come, oggi giornata è internazionale, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, ciao!